Sappiamo che la parete è importante, andremo per far punti, vogliamo far punti, vogliamo continuare a inseguire questa rincorsa, quindi poter ancora rosicchiare dei punti all'Empoli. Si stanno allenando come sempre, bene, Rodin ha avuto un problema, difficilmente credo ci sarà, valuteremo fino alla fine, poi sceglieremo chi può dare lo stesso tipo di garanzia. È un'opportunità anche per chi magari non sta giocando molto, di far vedere che ormai i sei mesi di apprendistato sono passati, sia dal punto di vista mentale che soprattutto delle richieste tecnico-tattiche. Credo che magari ci possa essere così, magari sento in giro un po' di delusione per la partenza di Palladino, ma è anche giusto riconoscere che lui ha fatto delle scelte, noi lo ringraziamo. Ad oggi a me farebbe piacere parlare, sono arrivati a Costi e Kotnik, li scopriremo, vedremo le loro qualità, dovranno essere abili a integrarsi velocemente perché non c'è più tutto il tempo che c'era prima. Io sottolineo ancora una volta, secondo me, la qualità dei giocatori che sono rimasti perché sono uomini prima di essere giocatori. Io sono veramente fiero di allenare queste persone perché hanno dimostrato di crederci e chiedo veramente una grossa mano ai nostri tifosi di far sentire come io già avverto, come è già successo anche domenica, ma avverto generalmente una fiducia perché stanno riconoscendo e si stanno immedesimando in queste ragazze che stanno gettando il cuore oltre allo stacco. Sappiamo benissimo di incontrare una squadra che ha comunque 15-16 giocatori che hanno già un'esperienza di questa categoria, saranno altamente motivati come lo siamo noi, hanno cambiato un altro allenatore ma stavolta secondo me è cambiato anche un po' il loro atteggiamento, almeno non fa fede solo una parita contro il Napoli perché la qualità dell'avversario è rilevata e quindi quell'atteggiamento di compattezza potrebbe anche non presentarsi contro di noi. Ma io credo che loro abbiano capito che in Serie A bisogna essere sempre ordinati e puntuali, aggressivi e non perdere mai la compattezza perché diventa difficile per tutti. Io credo che a Napoli abbiano schierato un 4-5-1 più che una squadra molto offensiva. Però hanno giocato le offensive in campo contemporaneamente. Però facevano un grande lavoro come li abbiamo noi anche peraltro ma che devono fare un grande lavoro anche in fase di non possesso perché se no diventa difficile mantenere gli equilibri. Sicuramente sono giocatori che hanno già un passato, ripeto, Nostro Rosso sta facendo un campionato veramente molto interessante, sta dimostrando di essere un giocatore di questa categoria come lo è il nostro Falcinelli, giusto per fare un esempio di ruolo. Quindi da questo punto di vista credo che sarà una partita dove dovremmo essere molto molto attenti e ci aspetterà una bolgia incredibile. Dovremmo essere consapevoli del fatto che non si può mai perdere la lucidità perché diventa secondo me poi difficile gestire anche le situazioni che nasceranno all'interno della partita stessa.